bravo grazie grazie allora dovete capire che ogni volta che noi dobbiamo mettere a sincrono l'audio con il coso lo dobbiamo fare così perciò fai così e fatti l'applauso spontaneo cioè tipo così bella benvenuti bentornati il faina vesalustia 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 il faina vesalustia ho fatto tipo quando quelli che non sono romani cercano di imitare i romani si si è vero uguale vesalustia vesalustia ho capito a romano quando parla così vabbè non so cosa sto dicendo comunque bella ragazzi bentornati in questo nuovo episodio di aginator e oggi c'è da fare una cosa importante perché dobbiamo cercare lui che con questo cappuccio non ti non ti riconoscerà mai ma anzi è un preservativo comunque niente andiamo su gioca e troviamo il nostro xenic vediamo se lo trovo gioca ah si eh si eh me trova si già me ha trovato secondo me eh si mi ha detto si 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 stressaggio viene dall'italia? no cioè vabbè si dai eh teoricamente no vabbè si è diventato famoso che sei tutto famoso c'è stressaggio a che fare con i videogiochi mo vai non esageriamo eh stressaggio è stato capitano di una squadra nazionale certo si della nazionale della Ceres no no amicissimi io e FabiJ è andato a Padova faccio un po' il padovano vai facci sentire come parla il padovano come parla il padovano mezzo milanese che figa è un po' più così cioè ah non faccio un aperitivo no è un po' meno è un po' più arrotondato il padovano secondo me è più un po' così di molti capito ah cioè è veneto quello? no allora è più è un milanese più bocione capito? cioè non è tipo così ma è un po' più così capito? ah vabbè è basica sì no non sono nato a Padova no Fersonaggio è di Torino vai torinese pure no che fare con la musica classica io Beethoven sì vabbè Dio Can Can no comunque Fersonaggio è il vocalista del suo gruppo eh sì perché ogni volta mi fanno su le mani su le mani su le mani passano in abira tipo così no ha raggiunto più di un no sì purtroppo no ha recitato è rifiuto è che ne hai seguito da tuagio cioè quello che è morta la prima puntata e quello non l'avete visto non lo ricordate Fersonaggio fa parte di GTA VSD no Abbey en Provincia di Messina no fa parte di una band pop punk ogni tanto c'è come Scodilaghioma Scodilaghioma ogni tanto ci direttiamo a cantare tipo Avril Lavigne No, girlfriend Sono la tua ragazza So che ti piace Andate a sentire la canzone di Aurilla Vigna in italiano Raga, fa qualcosa da un brobrioso Sersuaggio, gira a farvi Mi fai? Sì, sì Sersuaggio, intervista a personaggi famosi? No, sto pensando ad Anima Non è youtuber Non è youanima Figa Bolzano? No, ma Ruman, non ti piace? Fai prima Combatte per il principato di Zeo A Roma Sì, sì, io sono un grande cavaliere In realtà Grasso, sei grasso, sì, un pochetto No, ha mai cantato con diluvio Beh, lui è diluvio A me scambiano per diluvio, quindi Però ho conosciuto Cane Secco Ma non penso a Cane Secco, quello che intendiamo noi Partecipo alle gare? Quali gare? Al caso? No, sì Beh, sì, una gara l'hai vinta Beh, sei stato lo spermatozovo più veloce Ah, ok No, Sersuaggio vive con un cane Mazzò Sì, lui è un cane Cioè, proprio solitudine No, con un cane No, come un cane Ah, ho capito Però con un cane pure c'è Nel senso solo con un cane Sei più grande del normale No Sì, però c'è una cosetta Che è più grande del normale No, comunque no Hai rifiutato anche in terapia? Sì, sì Ho fatto una comparse Questo personaggio ha scritto Le cronache del ghiaccio e del fuoco Eh, che? Io, grande scrittore Sì, dopo le spiego ogni gol Vi spiego le cronache del ghiaccio Capito? Sì, sì, del fuoco Ha mai vinto un gol del globe? Poi che si scrive così globe? No, però ogni tanto Si fa talmente tante palle così Che la voglia è Gordon Globe Cioè Mi viettano proprio d'oro Ha a che fare con i telefoni? Eh, guarda Sì Praticamente sì, ho rotti Se seguite la live Sapevate come era rotto il telefono di Xenic Quindi adesso non ve lo dirò Ma dovete seguire la live Per scoprirlo Ce lo dovete chiedere in live Ha a che fare con... No Fai parte del metodo Ametal Che cos'è il metodo Ametal? Ma esiste il metodo Ametal? Che è un metodo contraccettivo Il metodo Ametal, hai capito? No È un po' afficcanato? Sei un po' afficcanato? No Hai più di 16 anni? Sì Non è Klaus Adesso me te l'ha sforzato No Non è Glaus Klaus Non ti troverà mai Questa è la foto di quando vince l'Unger Games Fa parte di un duo, sì Attenzione Cioè, c'è me è stato biondo? È stato biondo, no È pola... Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo È uno dei... Dei due membri Di una coppia di youtuber Sì Sto pensando a... È nato in Italia? Ma sei stupido No Ho pensato ad Axie Eric Oh, un vinto Guarda che foto Guarda che foto Ah, porco tu Che ho? Che hai fatto? Mi fa fare l'anima perché non ci sto No No, mi fa... Mi fa chiuso un dito qua dentro Cazzo Comunque, c'è, per me hai sviato una cifra Quando la prima domanda gli ho detto Vieni da Italia Eh Che fissi, eh? Sì Oh Buono il dito? Oh, oh, oh Ma scusa, non ti ho schiacciato qua Perché ti piedi dall'altra parte? No, perché mi hai schiacciato qua Ah, ok È un besciallo, passa Allora ragazzi Hakuna Matata Allora ragazzi Abbiamo trovato questo 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 Che cazzo? E' un fratello che ogni tanto porta la grappa de rosa a casa Ha detto Oh, fate in live Ogni cosa uno shottino Grappa de rosa? Andiamo stessi in live Mi fratello, vale che facciamo Ogni donazione uno shottino in live Questo video arriva a 10.000 like Lo faremo In live su Twitch Ma ragazzi Soprattutto Se questo video vi è piaciuto Lasciamo 10.000 like E così Papua Acab E niente Ricordiamo che stiamo facendo live su Twitch Sempre più frequentemente Quindi seguiteci anche lì Perché ci staremo le ore Quindi Se volete stare le ore con noi Passate le ore Più belle della vostra vita E niente Ciao Stringimi forte Che nessuna notte è infinita